E' il migliore possibile poter essere qui a appoggiare fino in fondo una grande donna come Alessandra, credo che sia davvero un passavanti importante e non avrei potuto immaginare un modo migliore per passare questo anniversario dal 26 febbraio scorso. No, subito devo dire che questo è stato conferma quella scelta che è stata, è maturata qui sul territorio e noi ci siamo messi a accompagnare il partito locale, regionale che è qui e ringrazio molto perché hanno fatto una spedita corsa e siamo anche molto soddisfatti che si stanno continuando per la lista da subito e senza mai difficoltà perché il rapporto di stima nasce da molto prima di questa candidatura con Alessandra e sapevamo che dopo questi cinque anni disastrosi di governo della destra c'erano tanti punti in comune su tutto studio questo progetto.